Partiamo proprio da queste considerazioni, quello che hai detto in conferenza, di un Inter che è ripartita, che per la terza volta non subisce gol, che oggi ha messo qualcosa in più che è mancato contro Napoli. La concentrazione, l'attenzione, ma anche la precisione nelle giocate, nelle uscite, le giocate veloci, come piacciono a te? Non solo questo, ma tanto altro oggi? Soprattutto l'interpretazione di squadra allo scorrimento dei momenti della partita, quando gli abbiamo concesso 10 metri di campo, quando gli siamo saltati addosso, l'abbiamo fatto tutti insieme, l'abbiamo fatto a livello di squadra, di compattezza, di forza mentale, di forza di muscolo, tutti muscolo. Si attende, gli si concede spazio, tutti fermi in attesa, è partita l'aggressione, tutti forti a saltargli addosso. E questa interpretazione che poi è stata chiara, netta, dove si è visto i vari momenti che ha fatto la differenza. Oggi è stata anche un'altra sensazione, che rubata palla fosse chiarissimo a tutti e ci fosse sempre più di una soluzione per uscire di squadra. È una sensazione solo vista dall'alto, poi magari dall'alto si vedono cose... Ha fatto bene questo salire da parte destra di Cancelo, questo D'Ambrosio che ha dato più aiuto ai due centrali e poi quando è partito lui si è fermato Cancelo, anche se sono state molte di più le libertà sulla destra, che invece di fare più guardiano sulla sinistra. Ivan ha fatto bene il tutta fascia e il terzo attaccante. Poi il Cardi naturalmente lì dentro è casa sua e comanda lui. Però poi se Gagliardini non recupera quei palloni in scivolata e li pulisce, li rende giocabili a quello accanto del suo reparto, Brozovic non riesce a fare tutte e due, poi anche Icardi viene penalizzato nelle qualità che ha. Gli altri recuperano e si perde quel beneficio. Andiamo da piano per il mister. Buon pomeriggio mister. A un certo punto, al 40esimo del primo tempo, l'Inter aveva attaccato sei volte a destra, sei volte in mezzo, sei volte a sinistra. Quanto è merito di quelle che sono le caratteristiche di Brozovic e Rafinha? Rafinha ha quelle qualità di cui spesso si è fatto dei dibattiti su questo trequartista, cioè lui è quello che riesce a uscire qualche volta dal folto e ti dà la continuità a come hai preparato l'azione, non ce la fa morire lì dentro, non se la fa soffocare perché poi soprattutto contro una squadra come la Sampdoria dove ha questo centrocampo numerosissimo e dove lì gli spazi sono veramente ridotti, invece lui è venuto via, è venuto via e si sono aperte delle corsie dove siamo andati fino ad attaccare la linea difensiva. Buon pomeriggio mister. Abbiamo rivisto un'Inter compatta, convinta e concreta. Possiamo definirla la migliore di questo 2018? Un'Inter che ha rimesso a posto alcune cose, che è ripartita e che ora insieme ai nostri sportivi che ci hanno sempre dato fiducia ce ne andiamo veramente a giocare questa qualificazione. Adesso qualche giorno di break con ranghi ridottissimi, sono in tanti i ragazzi che ti vanno via e poi si ricomincerà, consideriamo aprile anche Inter-Verona con un aprile dove le parite sono tante, tante in trasferta, tutte difficili però con quest'Inter si guarda al mese di aprile al futuro con serenità. Si guarda quello che manca da qui alla fine, con fiducia perché i calciatori ci hanno detto e ci hanno fatto capire che sarà una storia importante da qui all'ultima partita.